Allora Sembra già una cosa molto Ciao ragazzi Stasera a Spezia TV nel tour della notte Si trova a Marina di Carrara Federico Macione E il grande Rex Mattia Ciao ragazzi, ciao a tutti Grande Gian Piero numero uno Ecco Fede, ti volevo dire Raccontici un po' di questa bellissima serata Tantissima gente, bella gente Qui a Marina di Carrara, hai portato L'organizzazione Spezina qui a Marina di Carrara Eh sì, ci abbiamo provato Direi che è riuscita molto bene per adesso Insieme a Mattia Ovviamente abbiamo pensato di organizzare questa cosa In uno dei locali Diciamo più in del momento Qui a Marina di Carrara Un ringraziamento infatti oltre che a te Come sempre, che ormai anzi Porta fortuna a ringraziare Spezia TV E va ad Almo, il proprietario Che ci ha dato fiducia In mezzo a tante persone che chiedevano Questo posto che insomma è un po' Una pietra miliare diciamo In questa zona E la serata si chiama Friday Baby Friday L'idea è di Mattia E è venuta fuori una cosa carina Nei nostri standard Molto elegante Gente di un certo livello Di un certo tipo Musica come puoi sentire Da ascolto Poi ci scateniamo un pochettino più tardi Perché ancora presto Diciamo che è venuto tutto come doveva venire Allora vediamo Mattia Così ci racconta chi è il DJ E il vocalist Giusto? Della serata Il DJ Francesco Cadente Che ci sta guardando Che se ne so Se un brava se non lo chiamavo E Francesco Santarini E vocalist Temsi Fago Ah cavolo Grande Fago ci casa Fago E' tutto del tuo staff E' vero? Francesco è del mio staff Santarini non è proprio del mio staff Comunque diciamo è un amico Ed è molto valido come disegno L'abbiamo scelto proprio per le sue capacità musicali Perciò noi dobbiamo dire il venerdì sera Come Friday baby Friday ragazzi Ogni venerdì sera dal 24 giugno Un'ottima pericena Un'ottima pericena ricchissimo Com'è nello standard qui della Isce Ma abbiamo aggiunto un pochettino Anche della nostra esperienza Nei locali Ed è venuto un qualche cosa Che sta fra una pericena E una serata in discoteca Abbiamo il privé Dove siamo noi Abbiamo una zona diciamo Sempre VIP Ma non privé Insomma Ci siamo strutturati un po' come fosse una discoteca Ok Sulla nostre corte Allora salutiamo tutti gli amici di Spezia TV Ciao Rebecca Ciao 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 Bellissime ragazze come cameriere Diciamola ai nostri amici Sì è un valore aggiunto Assolutamente Il personale della Isce Che sono ragazze stupende Molto preparate Professionali Molto simpatiche Ci siamo trovati da dieci Come fai a trovarti male? Trovarti male è impossibile Noi portiamo fortuna sempre Vero Matti? Sulla TV porta sempre fortuna Vero Ciao ragazzi Ciao ciao Grazie Ciao ciao Grazie a tutti.